Preparati, perché questa bomba si chiama TNT, fine del mondo. Allora, questa è l'attivitù, ok? Guardate che cavolo ho creato! Signori, sono con Contins per andare a fare esplodere tutti gli esplosivi più strani e assurdi della storia di Minecraft. No, no, scusa, in che senso dobbiamo fare esplodere tutto? Fammi capire meglio. Hai capito bene nel senso giusto della parola, dobbiamo fare esplodere tutto, cazzo! Ok, ho premuto un tasto... Contins, che cos'è questo mondo? Aspetta un attimo, prima mi sta laggando tipo tutto. C'è una musichetta fantastica e non sto capendo cosa dobbiamo fare. Eccole qua, guardale, tutte le TNT più assurde del gioco! Ok, già mi sta piacendo, te lo dico. A me no, perché mi esploderà il PC. Ma guarda quanti sono grandi. Togli quel coso dalla mano perché rischi di far saltare in aria la mappa! Ci sono, ci sono, eccomi, seguimi, seguimi, seguimi. Ti seguo, ti seguo, signor Lollo, tranquillo. Conti, ma che dici, proviamo ad accenderne una? Beh, direi ovvio, cioè facciamo esplodere questo brutto. Oh, Dio! Scappa, 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 scappa. Oh, ma aspetta, aspetta, che cavolo è successo? Sono spawnate tutte le api con il miele. Perché ci sono delle api? Questa cosa non l'ho capito. Uccidiamo le api, signor Lollo, uccidiamole. No, adesso ti sparano tutte, fermo! Fermo, 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 fermati, fermati, scappa, vieni con me, vieni con me. Piuttosto andiamo ad esplodere qualche altra TNT. Vorrei far esplodere la tua testa, sinceramente, però va bene. Signor Conti, guarda che cavolo ho trovato qui davanti. C'è una TNT letteralmente enorme. Cioè, tu stai dicendo che questa è una bomba, cioè quella ha già esplosa. Figurati qui, qua esplode veramente tutta la mappa. Ma sai che facciamo? Dopo l'andremo ad esplodere, quindi ragazzi lasciate un mi piace in questo momento, cavolo! Veloce! Ma sei curioso di fare esplodere questo blocco di TNT di terra? Io troppo, vai. Sì, sì, dobbiamo veramente esplodere, vai. Come si fa? Basta toccarlo. Oh, scappa, scappa, cosa succede? Perché si sta illuminando? Sono tutto di blu. Ma lo hai rotto? Come l'ho rotto? Aspetta, no, secondo me perché si sta illuminando? Perché questa è una discoteca, quindi possiamo ballare. Ma non c'è capito niente! Quasi si fa esplodere! Ok, allontaniamoci, cazzarola. È diventato tutta terra. Non c'è letteralmente più nulla. Oh, ne ha esplodato un'altra! Conti, che cavolo fai? Te lo giuro che non ce l'ho stato io. Aspetta. Ok, questo è stato molto molto carino. Ok, questo era molto bello, ragazzi, come TNT. Cioè, prima esplose, poi sono esplose tantissime altre TNT. Ok, mi piace. Seguimi però che andiamo avanti qua. Ma secondo te questa cosa bianca è un esplosivo? Cioè, nel senso, questo coso, che cavolo è? Ok, continuiamo a far esplodere cose che mi sta piacendo. Cosa hai da propormi? Fammi vedere. Lanciamone una per una. Io ne ho preso un pochine. Ho un'idea, un'idea. Facciamo esplodere la tua capoccia, sì. Così ci mangiamo un bel pollo. No, spiegate e passare quella cavolo di dinamite che sono curioso di vedere gli effetti. Ok, tu mi presenti una dinamite tutta blu, ma sai per caso come si chiama? Si chiama la sfera del drago, perché mo ti faccio vedere quanto esplode. No, ma c'è scritto il nome. Cioè, nel senso, leggilo. Fai il rotellino. Rotellino, muovilo. Ok, ti dovrebbe coprire. Spawn water. Water. Spawn what? Spawn lava. No. Spawn. Ok, tranquillo, ho capito. Dovrebbe spawnare dell'acqua. Senti, tu e l'inglese non andate d'accordo. Io un pochino ci capisco. Quindi, in teoria, questa DNA ti farà esplodere dell'acqua. No, secondo me diventerà tutto acqua. Oh mio Dio. Che figata. Ma? Ma è diventata una palla d'acqua. Ho un'idea. Aspetta, prova a entrarci dentro. Prova a entrarci dentro. Ci sto. Ma si può nuotare. Guarda qui. Ma che figo. Cavolo, senti una cosa. Tu hai quella della lava, giusto? Sì, sì. Piazzala dentro l'acqua. No, tu adesso piazzi quella cavolo di cosa dentro l'acqua. Lo facciamo, lo faccio subito. Oddio. Vai, che la sparo. Vai, la sparo. Vai. Ti prego. Diventa tutta ossidiana. Ti prego. Che succede? Perché sto uscendo dall'acqua? Ragazzi, tutta ossidiana. Non ci credo. Non ci capisco niente. Aiuto. Conti, guardala da fuori. Che cavolo abbiamo creato? Una palla d'acqua, una palla di lava è tutta ossidiana. E le decobbe, oh mio Dio. Eh, Lollo, sono letteralmente sotto la lava e sto morendo. Allora, abbiamo spawnato della lava e dell'acqua. Guarda che cosa manca. Vieni, guarda che ti faccio vedere di qua. Sì, mancherebbe la terra in realtà. No, 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 è sbagliato. Mancherebbe questo. Guarda qua. Un enorme dinamite di ghiaccio, Conti. Di ghiaccio. Di Ghiaccio. Scappalo all'olio. Allora, come si ghiaccia tutto. Oh mio Dio. No, no. Sì, la bella palla di ghiaccio. Viva le palle, cazzo. Abbiamo creato letteralmente tre palle, ragazzi. Sì, va bene. Lasciamo stare. Andiamo alla prossima bomba. Ok, Conti, io in mano ho una dinamite che si chiama Hyper TNT. La provo a mettere. Voglio solo vedere. Sì. Ok. È abbastanza grande, Conti. Gomi, dove sei? Allora, io non so che cosa faccia questa bomba bianca. La vuoi sparare tu o la voglio sparare io? Decidiamo. Facciamo un parodisparo. Non lo so. Parodisparo. Buttiamole giù. Io vado sbagliato. Vai tu, io scappo perché se me qua sono già delle palle. E' veramente un casino. Ragazzi, ok. L'ho fatto esplodere. Conti, dove sei? Ok, vieni. Non è successo nulla. Non è successo niente. Ma dai, ma che bomba fa sulla? È uno scam. Oh, madonna. No. Ragazzi, è esploso il mondo. Guarda, Conti. Perché non c'è il pavimento, porca trota? Aspettalo, io ti propongo una cosa ancora più figa. Mettiamoci tutte le bombe e vediamo se ci sta un altro buco sopra questo buco. Cioè, sotto questo buco. Come si chiama questa rossa? Questa qua si chiama Spawn Round. Spawn, un altro round. Aspetta, guarda quante cavolo ce ne ho io. Guarda, guarda ho tutte queste rosse. Mettiamole tutte. Vai, vai, vai. Riempiamo tutto il buco. Lalo, ascoltami, ma dobbiamo farle esplodere nello stesso momento. Quindi mi raccomando, fai le cose fatte bene. Facciamo una cosa. Mettiamoci anche questa gigante. Così, giusto per divertirci e vedere che cosa succede a questo buco. Te lo dico. Io non voglio farmi esplodere il PC. Quindi, faccio una cosa del genere. Sì, giusto per fare esplodere tutto Minecraft. Ci sta, ci sta. Ma no, ma guarda. Non ho dubbi che funzionerà. Attivo la... L'ho attivata, l'ho attivata. Scappa, scappa. No, ragazzi, è finita. È finita. Mi esplode il PC. Mi esplode il PC, ragazzi. Lalo, sì, sì, fiducioso. Non ti preoccupare, secondo me, creiamo un nuovo soffitto. Non lo so. Aspetta, stanno esplodendo. Ok, sta esplodendo, sta esplodendo, sta esplodendo adesso, Conti. Stanno esplodendo adesso. Questa sembra essere molto particolare perché, cavolo, ha la scritta verde. Me lo spieghi? Che cavolo di TNT hai? Attiva, subito. In realtà non ne ho idea, però, guardala, voglio subito, Flore, voglio dire... Eh, ho sbagliato, ho sbagliato. Vai, vai. Attivala, attivala. Voglio vedere che succede. Io mi allontano per sicurezza, eh. Su me succede tipo un casino, non lo so. Ok, ok. È stato molto, molto... È una semplice bomba verde, mi piace. E se ti dicessi che io ho una bomba che spawna dei fulmini... No, non ci credo, è una cosa molto impossibile. Vieni qua, vieni qua, perché questa bomba in te riasponerà dei fulmini. Cioè, ci farà saltare in aria? Probabilmente sì. L'attivo? Probabilmente sì. Vediamo che succede. Oddio. Cazzarola. No, regà. Lolo, si è creato veramente un buco gigante. Ma ha spawlato dei fulmini clamorosi, ma guarda che buco che ha fatto. Io direi di esplodere a sto punto anche questo, scappa. Ma sì, scappiamo, scappiamo, attiviamo tutte le bombe che abbiamo. La lava. Bello. Oddio. Oddio. Abbiamo creato una palla di lava in un buco di lava, tipo di lava. Quanto cazzo sono belle le palle. E ti fa paura questa TNT gigante gialla? Ma siamo sicuri che è una TNT, perché questo mi sembra un palazzo. Ok, la faccio esplodere, sono coraggioso, lo so, sono veramente coraggioso, perché è una bomba veramente troppo grande. Sì, perché per il tutto il video abbiamo esplosato solo bombe un po' più piccole. Questa mi sembra leggermente troppo grande, però si esplodila, vai. L'ottivata. Scappiamo, scappiamo. Devo andare via. No, mi esplode il computer, ragazzi, mi esplode il PC. Cosa è successo? Mi sta tremando tu. Perché vedo così strano, mio Dio? No, ci ha avvelenato. Non era una bomba che esplodeva in una maniera eccessiva, ma ci ha tipo avvelenato. Ma cosa sto vedendo? Hai mai visto la fine del mondo, signor Conti? No, però la sto avvelenato adesso su Minecraft. Preparati, perché questa bomba si chiama TNT, fine del mondo. Allora, questa è l'attività, ok? Si, arrivo subito. È quella tutta nera vicino alla lava. Io mi allontano. Ma non lo sono carico. 3, 2, 1. Vediamo cosa succede. Scappa, Conti. Ragazzi, questa esplosione ve la faccio vedere così. In terza persona. Oh, mio Dio, ho paura. No, ragazzi. No, era la fine del mondo. Io ho paura. Non è successo niente. Non è successo. Ma si era accesa. Oh, no, sta ancora in lavorazione. Conti. Cioè, pensa quanto è forte. Io sto uscendo dalla mappa praticamente perché io ho veramente paura. Ma solo me. Oddio. Solo io non sto avvelenando nulla. Mi sa che è esplosa un po'. No, mi lagga tutto. Sta esplodendo. Sta esplodendo. Tutto il mondo, Conti. Sta esplodendo. Oh, mio Dio. Guardate che cavolo ho creato. Conti, dimmi che lo vedi. No, non lo sto ancora vedendo. Merdia. È esploso tutto. È esploso tutto. Altro che la fine del mondo. Porco due, ragazzi. Ma questa se ve la portate nella vostra serie potete fare una costruzione fighissima. Tipo una ciotola gigante. Detto questo, signori, questo è il disastro che abbiamo creato quest'oggi con le nostre dinamiti super potenti. Abbiamo fatto dei fori enormi, abbiamo fatto delle palle di lava, di ghiaccio, di acqua e chi più ne ha più ne metta davvero. Grazie mille a Conti che è intrappolato in qualche buco strano. Grazie mille a tutti. No, in realtà sono luce da uscire. Noi ci vediamo domani. Conti, ti sono piaciute le dinamiti, dire la verità. Sì, è stato molto molto divertente. Ciao. Ciao. Ciao.